Buongiorno a tutti, sono Idroschialo e questo è il mio martello. Come padre. Mi ha chiesto perché tutti contro l'UX65. Perché tutti contro l'UX65? Non so perché tutti contro l'UX65. Io dico una cosa, l'UX65 è amico mio, amico di supereroe più forte di Asgard, di Asgard Idroschialo. L'UX65, puro di cuore. L'UX65 dice sempre quello che pensa. L'UX65 no, ha doppia faccia. L'UX65, brava persona. Che lui sbaglia. Ma, amico di Idroschialo? E quindi, tutti essere amici dell'UX65. Come padre. Ogni tanto rompe palle. Sì. No, è perfetto l'UX65. Ma, l'UX65 è grande personaggio. Puoi amare, puoi odiare. Ma, lui rispetta tutti. Quindi, Idroschialo dice, viva l'UX65. Un saluto a tutti da Idroschialo, che viene da Asgard, più forte di tutti i supereroi.